Il sindaco di Lucera Antonio Tutolo ha comunicato tramite social network che nei prossimi giorni cominceranno i lavori di riqualificazione dell'area abbandonata del vecchio parco giochi collocato presso la villa comunale. Il primo cittadino di Lucera annuncia che sarà ampliato il parco dedicato ai bambini poiché quello attuale è chiaramente insufficiente. Inoltre sarà creata un'area dove i genitori potranno fare fitness mentre i loro bambini giocano ed un piccolo spazio dedicato al fitness per gli anziani per pensare ai nonni che potranno svolgere attività fisica mentre i loro nipotini si divertono a giocare. Insomma obiettivo sarà creato uno spazio di svago dedicato a tutta la famiglia nel cuore della città. Tutolo ha anche informato che a primavera inoltrata dovrebbero terminare i lavori.